Ci trasciniamo intatte. Il silenzio delle stelle attraverso Maria Teresa G. Entità. Vengo dall'Irlanda dove mi trasporto spesso, richiamato da singolari vibrazioni che fino a poco fa non capivo, ma la loro causa adesso mi è chiara. I boschi, gli sconfinati prati dell'Irlanda, le sue acque, il suo cielo hanno un respiro che mi sembra il richiamo dell'infinito. In nessun luogo io mi sento tanto compenetrato. Adesso so che fin dalla prima volta che mi recai in quel paese provai una vertigine di sensazione e mi parve di riconoscere ogni strada, ogni città e ogni piccolo luogo come se vi fossi vissuto mille anni. Quando ero in vita ho rigettato la possibilità della reincarnazione, che adesso per me è una realtà. L'indignazione di tante persone che rispingono questa verità come un'apostasia è causata dai concetti tramandati dalla nostra religione che niente hanno in comune con gli insegnamenti che ricevo qui. Inoltre alcune entità manifestatesi in vari cerchi, perché ancora influenzate dai loro preconcetti, hanno trattato il tema in modo assai superficiale. Io non posso dichiararmi all'altezza di un maestro, ma vi esorto a interrogare chi conosce molto di più, senza paura di dimostrare la vostra mancanza di intuizione.